Cari amiche e cari amici della notte, eccoci ad un nuovo appuntamento con la lettura e il commento di Così parlo Zaratustra. Siamo alla seconda parte, il bambino con lo specchio. Poi Zaratustra tornò sulla montagna e nella solitudine della sua caverna e si sottrasse agli uomini aspettando come un seminatore che ha gettato il suo seme. Ma la sua anima era piena di impazienza e di desiderio verso coloro che amava, poiché egli aveva ancora molto da dare loro. Questa è la cosa più difficile, per amore, chiudere la mano aperta e conservare il pudore donando. Così per il solitario trascorsero lune e anni, ma la sua saggezza cresceva e gli procurava dolore per la sua pienezza. Ma un mattino egli si svegliò ben prima dell'aurora, riflette lungo sul suo giaciglio e infine parlò al suo cuore. Per quale motivo mi sono tanto spaventato in sogno da svegliarmi? Non si è forse avvicinato a me un bambino che reggeva uno specchio? Oh Zaratustra, mi diceva il bambino, guardati allo specchio. Ma appena guardato nello specchio, mandai un grido e il mio cuore è rascosso, perché non vivi di me stesso, ma la smorfia e il ghigno di scherno di un demonio. In verità io comprendo anche troppo bene il sogno e l'ammonimento del sogno. La mia dottrina è in pericolo, la mala erba vuole farsi chiamare frumento. I miei nemici sono diventati potenti e hanno stravolto l'immagine della mia dottrina, così che i miei cari devono vergognarsi dei doni che ho dato loro. I miei amici si sono smarriti. È venuta l'ora per me di cercare i miei smarriti. A queste parole Zaratustra si levò in piedi, non come un non preso dall'angoscia o in cerca di aria, ma come un veggente, un cantore invasato dallo spirito. La sua aquila e il suo serpente lo guardarono stupiti, già che simile all'aurora una sopravveniente felicità indugiava sul suo volto. Che cosa mi è accaduto, animali miei, disse Zaratustra? Non sono cambiato? Non è forse venuta a me la beatitudine come un vento burrascoso? Folle la mia felicità, e cose folli sta per dire, è ancora troppo giovane, perciò abbiate pazienza con lei. Io sono ferito dalla mia felicità, tutti coloro che soffrono devono medicarmi. Io posso scendere di nuovo dai miei amici e anche dai miei nemici. Zaratustra deve di nuovo parlare, donare, fare per i suoi cari le cose più care. Il mio amore impaziente scorra fiumi giù verso levante ponente, da montagne silenziose a tempeste di dolore, scroscia giù nelle valli. Troppo a lungo ho desiderato, ardentemente ho guardato lontano, troppo a lungo mi sono dato alla solitudine, così ho disimparato il silenzio. Sono diventato tutto bocca e spumeggiare di ruscello giù per le alte rocce, in basso voglio precipitare il mio discorso nelle valli. Il mio torrente d'amore precipiti pure per vie impossibili, come potrebbe una corrente non trovare infine la via verso il mare. Certo in me vi è un lago solitario, un se stesso appagato, ma la mia corrente d'amore lo trascina con sé verso il basso fino al mare. Io percorro nuove strade, un nuovo discorso mi soviene, come tutti coloro che creano mi sono stancato del vecchio linguaggio. Il mio spirito non vuole più camminare su suole consumate. Troppo lento scorre per me ogni discorso. Salto sul tuo carro tempesta e anche te voglio frustare con la mia malvagità. Come un grido esultante voglio dirigermi sopra i vasti mari fino a trovare le isole beate dove dimorano i miei amici. E tra loro anche i miei nemici, come amo ora tutti quelli a cui posso parlare. Anche i miei nemici fanno parte della mia beatitudine. E se voglio montare sul mio cavallo più selvaggio, sempre la mia lancia mi aiuterà a farlo nel migliore dei modi. Essa è il servitore sempre pronto del mio piede. La lancia che scaglio contro i miei nemici, come ringrazio i miei nemici del fatto di poterla infine scagliare. Troppo grande era la tensione della mia favola. Fra le risate e dei fulmini voglio gettare giù nel profondo rovesci di grandine. Il mio petto si solleverà, allora poderoso, poderosa soffierà la mia tempesta verso i monti. Così gliene verrà sollievo. Davvero simile a una tempesta giunge la mia felicità e anche la mia libertà. Ma i miei nemici devono credere che il male imperversi sopra le loro teste. Sì, anche voi sarete spaventati, amici miei, della mia saggezza selvagge. Forse fuggirete via insieme ai miei nemici. Ah, sapessi invogliarvi e tornare indietro il suono di un flauto pastorale. Ah, se se imparasse a ruggire delicatamente la mia saggezza leonessa. E molte cose abbiamo già imparato insieme. La mia saggezza selvagge è diventata gravida su montagne solitarie. Su ruvide pietre ha partorito il suo più recente fresco frutto. Ora corre come pazza per il deserto stile e cerca e cerca teneri prati. La mia vecchia saggezza selvaggia. Sui teneri prati dei vostri cuori, amici miei, sul vostro amore, essa vorrebbe adagiare ciò che ha di più caro. Così nella seconda parte, ancora una volta, Nietzsche sfoggia tutta la sua bellezza poetica, tutta la sua maestosità di scrittore. Moltissime anche in questo caso le immagini di un viaggio che sta iniziando, perché poi il prossimo capitolo, paragrafo, si interviene proprio sulle isole beate a cui aspira, a cui giunge Zaratustra. Zaratustra ha abbandonato la città e si è dunque rifugiato, ho parlato ai marinai, ai cittadini, agli uomini dei boschi, ai saltimbanchi, agli abitanti dei villaggi. Si è rifugiato in un momento in montagna, solitario, e sta per tanto tempo in montagna, perché lui ha gettato un seme, ha gettato un seme agli uomini. Zaratustra, il primo profeta dell'umanità, è tornato per annunciare la fine degli dèi, la fine dell'Occidente, il crepuscolo della metafisica, dell'illusione, delle menzogne di Dio, per annunciare l'avvento dell'altro uomo. Ha getto questo seme ed è un seme molto molto ricco, fertile, va accudito, va atteso e la sua anima si è riempita, si è riempita, è salita, è la verticalità inizia, è salita, è una bellezza ripiena e Zaratustra appunto è pieno nel cuore, proprio perché ha compiuto un gesto seminale, un gesto fondativo, ha annunciato l'avvento dell'oltre uomo. E qua fa un sogno, dice, di aver visto un bambino, Zaratustra, un bambino con uno specchio, il bambino che mette ad essere l'emblema anche dell'oltre uomo, l'uomo che da cammello si fa leone e poi si fa bambino, da sopportatore, reggitore, faticatore del mondo, cioè un uomo che ha rinunciato agli spiriti vitali, al dionisiaco, alla bellezza della ribellione, della volontà, l'uomo del tu devi perché devi e ha chiarito poi lo spazio, però io voglio del leone, si è ribellato questo fardello per poi diventare io creo, il bambino creatore. Questo bambino pone a Zaratustra uno specchio, si guarda e vede un ghigno, uno scherno, il demonio. Io comprendo anche troppo bene il sogno e l'ammonimento, la mia dottrina è in pericolo, la mala erba vuole farsi chiamare frumento. La mia dottrina è in pericolo, quello che io ho insegnato può essere avvolto dalla mala erba, però può essere avvolto dalla mala erba che però al contempo vuole farsi chiamare frumento, cioè la morte, la rinuncia alla vita, la menzogna, assumono però il volto della vita, del pane, dei valori, falsi valori si presentano come valori e dunque è un ammonimento, perché i nemici sono diventati potenti, hanno stravolto la sua dottrina, la vogliono appunto stravolgere, la vogliono negare, dunque fratelli miei, devo stare attento, fratelli miei tutto può cambiare, io non sono cambiato, non è forse venuta a me la beatitudine come un vento burrasco, io sono folle, sono felice, questo ammonimento devo tenerlo presente, ma io adesso ardo, io sono fuoco, sono diventato tutto bocca spumeggiante, sono ruscello, perché io sono disceso come un fiume a valle, tutto ho travolto, certo in me vi è un lago solitario, in se stesso appagato, non è a corrente, l'amor lo trascina, io corro il rischio di adagiarmi, ecco l'ammonimento, specchieti, specchieti Zaratusta, questo demonio sei tu, sei tu che puoi adagiarti, sei tu che puoi abbandonare la tua missione, sei tu che dopo averciato il seme pensi di essere appagato, questo lago solitario che c'è in te, questo stagno, invece tu devi essere un ruscello, il ruscello no, il ruscello deve andare verso il basso, così l'amore trasforma il lago in un ruscello, il lago, il lago come emblema di una staticità, invece il ruscello come emblema di vita, di vita che scorre, che passa in mezzo alle pietre, questa deve essere la vita, è il problema che noi siamo laghi, in molti casi cerchiamo il lago per essere tranquilli, per essere sereni, ma lì c'è una calma piatta, un orizzonte di morte, serve il furore, un eco brugnano in nice e voglio montare il mio cavallo più selvaggio, non devo adagiarmi, non devo trasformarmi in un frumento ma che in realtà è erba maligna, è chiaro, io devo cavalcare il cavallo, il cavallo più selvaggio e devo traversare montagne, praterie, ok, questo cavallo io lo cavalco con una lancia, come se fosse una giosto, una sfida, un duello medievale, il mio petto si celebra allora poderoso perché soppure la tempesta verso i monti e io devo cavalcare, devo reggere la tempesta, anzi la tempesta porta alla libertà, una tempesta giunge la mia felicità e dove c'è cambiamento, dove c'è mutamento, dove c'è tempesta ci può essere felicità, non parliamo però di guerra, non stiamo parlando di marinetti della guerra come noi, i gene della storia o come Hegel, la guerra che stabilisce chi è forte, chi è razionale, chi è debole, chi è irrazionale, che stabilisce noi vincenti e perdenti, poi la tempesta, la tempesta interiore, lì c'è un filosofo, una tempesta interiore, una tempesta filosofica, morale, emozionale, questo ci sta dicendo Zaratustra, bisogna cavalcare la tempesta, bisogna cavalcare il cavallo selvaggio, vivere nella tempesta, nell'occhio del ciclone perché lì c'è la libertà, c'è la libertà, la saggezza è una leonessa, non è appunto un animale timorato e timoroso, la saggezza è leonessa, è una saggezza che diventa gravida sulle montagne solitarie perché la saggezza non deve essere stere, la saggezza è una saggezza gravida che ingravida, non una saggezza dunque tenuta in sé per sé appunto una saggezza stere, una saggezza contemplativa, una saggezza onanistica potremmo dire, no, deve essere una saggezza seminale, una saggezza che ingravida, forte come un leone, regna dunque nel mondo, nella savana, ora corre come pazza la mia saggezza per il deserto ostile e cerca tenere i prati, l'uomo saggio è capace, non l'uomo saggio, l'uomo saggio per dicevo vuol dire appunto l'uomo che ha sovvertito i valori, che ha accettato la morte di Dio, che si è fatto Dio, che diventa volontà di potenza, che vivrà, lo andiamo per avanti poi, nell'eterno ritorno, questo uomo saggio attraversa anche i deserti e va alla ricerca dei teneri prati, ma i teneri prati sono al di là dei deserti, non si può arrivare immediatamente i prati, dunque non timbolsire Zaratustra, non rimanere, non rimanere, adesso isolato, poi ho fatto questo grande gesto dell'aver educato, annunciato gli uomini, annunciato gli uomini l'avvento, dell'Ubermensch, questa felicità deve essere una felicità che diventa rigogliosa, noi non siamo in una società di felicità rigogliosa, di pazia, di follia e selvaggia, noi non cavalchiamo, cavalli selvaggi, marronzini, noi siamo chiusi in scatoletti in automobili a avvolgere le nostre vite, vite appunto di una regolarità che non è appunto impeto, che non è eros, che non è forza, non è tempesta, non è ruscello ridondante, non è verticalità, ma è appunto un appiattimento, probabilmente continuo a ripetere, Ronice ha veramente colto il male intimo della modernità, per questo di fatto un antimoderno che è appunto la mediocrità e come antidoto c'è la nostra pillola quotidiana di Ubermensch, che io invito sempre a prendere, una pillola ogni sera di Ubermensch, non vuol dire essere, gradarsi boriosi, presuntuosi, vuol dire vivere però andando un po' al dia del limite dell'uomo, provare ad andare oltre l'uomo, provare a rapportarsi alla vita con slancio, con forza, con creazione, con volontà creativa, con la forza del bambino che rompe le cose, che le mette in disordine, c'è bisogno del caos interiore per generare la stella danzante, per generare fiore, per generare prati, dunque una saggezza leonina non è una saggezza statica, è una saggezza che sa essere feroce rispetto alla vita e ripeto, la feroce non vuol dire umiliare gli altri, aggredirli, schiacciarli, schiavizzarli, la saggezza leonina è la saggezza che uno deve avere tutto per sé, è una saggezza che ti porta a essere in moto, essere in movimento e non accettare il piattume della vita, nel piattume della vita e della mediocrità si muore, Zaratustice attenzione per la morte arriva presentandosi come pane, come frumento, la morte arriva presentandosi come vita ed è una piccola morte quotidiana quella che annebbia il dionisiaco, uccide il dionisiaco e vuole anestetizzare l'incipiente Übermensch. Prossimo appuntamento con Nietzsche con la lettura del paragrafo sulle isole Beate. Buonanotte, ci vediamo nei prossimi giorni, spero con video di storia, di filosofia, sono gli ultimi giorni di scuola, dunque sono le ultime video lezioni e poi continueremo d'estate con le rubriche, scrivete sotto cosa vi piacerebbe, sono già tantissime richieste, c'è ancora Leibniz, Husser, è arrivato le richieste chiaramente sulla scuola di Francoforte, su Heidegger, su ancora Sartre, voi iscrivetevi sotto io man mano appena riesco a realizzare video lezioni per continuare a costruire la grande comunità di Barba Sofia. Buonanotte a tutti.